Ciao a tutti da Codemotion Roma, sono in compagnia di due speaker, alla mia destra Antonino Orlando e alla mia sinistra Simone Pulcini. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao. Ciao, grazie a voi. Allora, entrambi del Google Developer Group di Roma. Allora, innanzitutto di che cosa vi occupate? Iniziamo da Simone, oltre a ballare il tango, perché so che balli anche il tango. In attività del tempo libero, assolutamente. Ma io sono il coorganizzatore del gruppo Google di Roma e del gruppo dei sviluppatori, che è partito e tornato al regime da circa un anno. Abbiamo visto un crescere di attività incredibili, assieme ad Antonino e agli altri ragazzi del gruppo abbiamo già fatto diverse attività. L'anno scorso c'è stata, ad esempio, fra le maggiori, la DevFest dell'Italia centrale, con tutti i gruppi sviluppatori che abbiamo organizzato qua a Roma, a cui abbiamo dato anche noi da nostra parte un contributo. Abbiamo a breve un altro evento a fine maggio all'Università di L'Aquila, che stiamo organizzando, in cui proporremo ovviamente laboratori, parti applicate, perché quella è la parte che sicuramente ci piace di più, ed è la parte proprio di diffusione delle conoscenze, di mettere a disposizione degli altri. E poi tantissime altre attività divertenti, oggi ne avete visti alcune, la caccia al tesoro, assolutamente assieme alle persone e soprattutto con un elemento comune che è il divertimento, perché la diffusione delle conoscenze è divertimento, per noi è così. È vero, è vero. Antonino, parlaci un attimo di te invece. Io faccio parte pure del Google Developer Group di Roma, e mi occupo in particolare della parte Android, e abbiamo organizzato, insomma, ormai da quando siamo partiti, alcuni workshop come questo del Code Motion, in cui facciamo praticamente provare il codice, facciamo un po' di diffusione della conoscenza relativamente all'ambito di Android, dalle tecnologie Google collegate. Allora, l'argomento del workshop è Internet of Things, parlaci un attimo di cosa nello specifico, su cosa nello specifico vi siete focalizzati. Allora, nel laboratorio che abbiamo presentato abbiamo implementato un'applicazione distribuita, una parte era su Android, dove si occupava di simulare una situazione che può essere tipica dello scenario dell'Internet delle cose, la lettura di un tag NFC e da parte del dispositivo Android una registrazione su un'applicazione di back-end. Io in particolare ho curato l'applicazione di back-end su App Engine e abbiamo realizzato, per quanto riguarda la parte di cui mi sono occupato io, la memorizzazione della registrazione di questi dispositivi e la possibilità, sempre lato server, di poter inviare ai dispositivi registrati una notifica attraverso un altro componente dell'infrastruttura cloud di Google, che è il Google Cloud Messaging. E Antonino invece si è occupato della parte Android, quindi della lettura dei tag NFC e dell'invio invece lato App Engine, della registrazione. Ok, infatti, per quello che ti riguarda invece? Per quello che mi riguarda sì, io mi sono occupato proprio della parte di Android, dell'interfacciamento con Google Cloud Messaging, della lettura dei tag NFC per costruire insomma tutto questo sistema che è molto interessante a livello tecnologico ma con anche delle applicazioni reali e pratiche abbastanza utili e interessanti insomma sia per un ambito industriale ma anche un ambito personale. Ok, e invece per quanto riguarda il riscontro da parte del pubblico e del workshop, com'è andata? Anche perché so che hanno provato anche applicazioni, eccetera? Assolutamente, perché l'idea è che noi abbiamo strutturato il laboratorio come una parte davvero hands-on, quindi immediatamente hanno avuto la possibilità dopo una piccola parte introduttiva di cominciare a sviluppare delle piccole componenti dell'applicazione. Noi avevamo ovviamente creato degli scenari adeguati per questa situazione e il ritorno dal mio punto di vista è stato decisamente ottimo, è stata una bellissima esperienza per me emozionante e spero sia stata anche per il pubblico perché abbiamo avuto veramente un ritorno di persone che non ci aspettavamo e abbiamo visto che le registrazioni crescevano e è stata per me un'esperienza molto emozionante credo anche per loro perché abbiamo avuto dei feedback dopo ci sono persone che anche oggi sono venute insomma a cercarci è davvero una bella esperienza, grande soddisfazione davvero grazie a CodeMotion e grazie all'opportunità che ci è stata per questo Lab assolutamente. Del riscontro ci siamo resi conto visto che abbiamo cercato praticamente ovunque per l'intervista e non si trovavano quindi eravamo presi da mille domande. Senti Antonino, anche tu soddisfatto del workshop? Assolutamente sì perché forse è un po' più semplice parlare, fare uno speech invece fare un workshop significa comunque prepararsi, preparare il codice organizzare un po' quella che è l'attività delle persone che assistono assisterli, supportarli con tutti i problemi diversi e cercare comunque di portarli alla fine del progetto per poter vedere qualcosa di concreto fatto e quindi avere anche la soddisfazione. Questo è ottimo e abbiamo ricevuto sì sicuramente feedback positivi ed è gratificante vista anche la fatica che richiede fare questo tipo di attività però ci piace farlo così, non ci va di parlare soltanto, ci piace fare. Allora invece progetti futuri, iniziamo da Simone. Beh progetti futuri, a parte continuare l'altra cosa, i miei progetti futuri dal punto di vista del gruppo di Google sicuramente è mantenere questa esperienza e farla crescere di più. Ci andavo prima all'evento che stiamo realizzando adesso all'Università di L'Aquila e poi io la mia speranza sinceramente è quella di cercare di integrare questi scenari qui dove abbiamo persone che hanno una voglia di fare spontanea, eccezionale magari cercare di trasmettere queste cose e di portarle man mano in ambiti che possono essere quelli del sociale ma anche nell'ambiente lavorativo stesso che in questo paese ha un grande bisogno secondo me di un impulso forte, di idee nuove e magari un'esperienza così è qualcosa che ti può proiettare e far muovere le persone verso scenari migliori e a volte si comincia così, in modo assolutamente spontaneo io l'ho fatto così, ho avuto l'opportunità veramente di farmi lo dire io devo ringraziare Antonella Blasetti, lei l'organizzatrice del gruppo e lei che circa un anno, un anno e mezzo fa ha cominciato a contattare noi e con lei abbiamo condiviso questa esperienza e immagina che l'abbiamo vista crescere rapidamente questo è l'esempio, tutti possono entrare, tutti possono cominciare se vogliono cominciare con noi sono benvenuti, assolutamente Ok, ce l'auguriamo davvero Antonino, qualche progetto tuo nello specifico? Beh, nello specifico mio progetto personale devo dire io ci sono entrato all'interno del Google Developer Group con un obiettivo, cercare di fare e di diffondere il più possibile l'ambito tecnologico dell'informatica, del mobile per cercare di trovare persone e cogliere ambiti tecnologici che in Italia forse si stanno un po' perdendo e quindi per cercare di far rimanere anche l'Italia, diciamo, sulla cresta dell'onda per la realizzazione delle cose e non soltanto nell'utilizzo delle cose che riguardano l'IT Ah, ce l'auguriamo davvero Allora, un'ultima battuta, le vostre impressioni su Code Motion Roma, sull'edizione di quest'anno? Guarda, io penso che, tanto questo è il primo anno che l'ho vissuta in prima persona e quindi ho visto un'altra parte che è altrettanto emozionante devo dire che vedo che c'è un gran numero di persone ma soprattutto quello che c'è è che ci sono moltissime idee le vedi assistendo ad un laboratorio, ad un talk ma le vedi anche in mezzo ai corridoi quindi sono persone che si fermano e nascono nuove idee prima abbiamo incrociato altre due persone c'è una grande diffusione ma c'è la diffusione della conoscenza quindi c'è anche secondo me un aspetto sociale che è importante che è quello che poi crea opportunità, può creare lavoro, divertimento e quant'altro quindi secondo me è un'esperienza assolutamente eccezionale da rifare subito e quindi cominciamo a organizzare quello l'anno prossimo qua a Roma Esatto, esatto Antonio, concordi? Assolutamente sì e devo dire che anche io la prima volta come protagonista insomma come persona che collabora devo dire grazie perché l'organizzazione e l'assistenza che ci è stata data gli strumenti che ci sono stati dati per poter realizzare il tutto con un discreto successo insomma ci sono stati tutti e quindi è una bella esperienza Perfetto, allora grazie entrambi e a questo punto alla prossima edizione di Codemotion Roma A presto, grazie Grazie a tutti